La misericordia è feconda e inclusiva perché il suo oggetto è la vita umana nella sua totalità che nessuno può dare a se stesso e noi sacerdoti dobbiamo essere segno e strumento, fare opere e creare una cultura della misericordia. Così Papa Francesco si è rivolto ai presbiteri nell'ultima meditazione preparata per il loro giubileo e tenuta nella Basilica di San Paolo fuori le mura dal titolo Il buon odore di Cristo e la luce della sua misericordia. Un odore che siamo noi quando osserviamo i poveri e i malati, ha spiegato il Papa citando Santa Rosa da Lima. Nella Chiesa abbiamo avuto e abbiamo molti peccati ma abbiamo anche seguito lo Spirito nelle opere di misericordia. La nostra gente apprezza questo, il prete che si prende cura dei poveri, dei malati, che perdona i pecatori, che insegna e corregge con pazienza. Il nostro popolo perdona molti defetti ai preti, salvo quello di essere attaccati al denaro. Il popolo non lo perdona. E non è tanto per la ricchezza in sé, ma perché il denaro ci fa perdere la ricchezza della misericordia. Essere misericordioso, ha spiegato il Papa, non è solo un modo di essere, ma il modo di essere. Non c'è altra possibilità di essere sacerdote. E nel confessionale il prete è il segno e lo strumento dell'amore misericordioso di Dio verso il peccatore e strumento di un incontro. I buoni confessori, sempre disponibili e mediatori, aiutano la gente ad avvicinarsi, non la spaventano. Hanno delicatezza con i peccatori e con mezza parola capiscono tutto, senza domandare dettagli o chiedere quante volte. Al termine della meditazione, dopo la recita dell'Anima Cristi, Papa Francesco, fuori programma, ha ammesso che qualche bastonata, qualche rimprovero ai sacerdoti li dà, ma anche che è rimasto edificato da tanti preti bravi. E ha voluto leggere una lettera ricevuta da un parroco italiano di tre paesini di montagna, preoccupato che la troppa burocrazia da sbrigare gli tolga tempo per le sue pecore, i parrocchiani che non lo lasciano però mai solo. Non perdete la preghiera, ha commentato il Papa, la vicinanza alla gente e il senso dell'umorismo.